Tablet, sì o no? Sì, certo, ma è più senza. Perché? Perché è più facile e mi semplifica la vita. Perché è professionale e mi distingue da tutta la concorrenza. Fammi capire. Non carico più contratti, faccio solo la check-all e mando avanti l'offerta, fine. Ma non porto più contratti con me, carico subito le offerte e so se vanno a buon fine. Cosa chiedere di più? Cosa miglioreresti? Vorrei che fosse più smart e flessibile. Ma innanzitutto la velocità e la stabilità. Poi magari mentre ci siamo se è possibile togliere qualche dato. Il tablet in una parola. Innovativo! È figo! Andrea, cosa vuoi dire ad Ivan? Non voglio più vedere carta. Ivan, cosa vuoi dire ad Andrea? Andrea, mi mancheranno tanto le tue telefonate per dirmi che ho sbagliato. Un saluto? Ciao! Ciao!